Buonasera a tutti. Stamattina i volontari della protezione civile della VPS hanno consegnato altre 1.500 mascherine ai cittadini di V-mercate. Desidero ringraziare i volontari e i cittadini per la collaborazione. Le operazioni di distribuzione di questo primo importante quantitativo si sono svolte molto rapidamente, praticamente senza attese e rispettando abbondantemente le distanze di sicurezza. Nei prossimi giorni riceveremo altre mascherine acquistate dal Comune tramite a VPS. I volontari della protezione civile stanno organizzando una distribuzione capillare a partire dai quartieri più periferici che hanno avuto sicuramente più difficoltà a raggiungere i punti di distribuzione di questi giorni. Devo ringraziare di cuore i volontari della protezione civile e della VPS che stanno svolgendo un grande e generoso lavoro per tutti noi da settimane, spesso trovandosi a far fronte alla rabbia e alle difficoltà anche emotive di molti cittadini. Ringrazio in modo particolare i nuovi volontari che in queste settimane si sono messi a disposizione rendendo ancora più solide le nostre associazioni. Ricordo che con le mascherine che abbiamo acquistato per adesso riusciremo a fornirne una per nucleo familiare. La mascherina deve essere usata dal componente della famiglia incaricato di andare a fare la spesa o procurarsi i farmaci una volta alla settimana. Si stanno aprendo finalmente dei canali di approvvigionamento a prezzi più ragionevoli rispetto a quelli delle scorse settimane e che consentiranno anche alle farmacie di rifornirsi. Con le farmacie comunali, che devo ringraziare ancora, stiamo provvedendo a questi acquisti. Il fatto di avere una mascherina però non autorizza a uscire liberamente. La regola è restare a casa e uscire solo per inderogabili necessità. I controlli restano rigorosi. Ricordo poi che per tutte le situazioni di urgenza o particolare difficoltà cercheremo di trovare le soluzioni possibili. Il riferimento è sempre il numero verde 800 348 348. Devo ringraziare per tutte le donazioni che stanno arrivando. Molti di voi stanno attivando iniziative, sempre nel rispetto delle regole, per raccogliere fondi da destinare ad AVPS, che ricordo li usa per le dotazioni dei volontari, per i medici di famiglia e per le situazioni di emergenza del nostro territorio. Altre donazioni stanno arrivando da molte aziende del territorio, che devo ringraziare per la loro generosità e tra queste voglio ringraziare Brian Zacque, che ha destinato fondi ai comuni soci, per V-mercate la cifra donata supera i 40.000 euro. È triste non poter vivere come negli anni passati i momenti tradizionali di questi giorni, prima di Pasqua, ed è ancora più triste per chi ha perso i propri cari in queste settimane drammatiche. Il divieto di spostamento va preso sul serio e così come per le celebrazioni religiose, anche i cimiteri non sono aperti ai cittadini. Nel rispetto delle regole, con Don Mirco e i nostri parrosci, abbiamo pensato di dedicare sabato mattina una visita ai nostri cimiteri, per portare il conforto di una commemorazione civile e religiosa ai nostri defunti. Stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli, per rendervi partecipi, in modo digitale, di questo momento di affetto per i nostri cari. Sul fronte del contagio, vi mercate contro un numero di positivi accertato, che è salito ancora di tre, arrivando a quota 158. Sappiamo che questo numero non è molto significativo, ma deve servire a capire che l'emergenza non è finita e dobbiamo tenere duro, anche se siamo stanchi, anche se i bambini vogliono andare al parco, o se ci sembra che non ci possa essere niente di male a uscire anche due o tre volte al giorno per fare la spesa. Fate attenzione anche nei giardini condominali. Il virus non fa differenza tra luogo pubblico e privato. Frequentate i giardini condominali mantenendo grandi distanze tra voi, meglio se lo fate a turni. È importantissimo che anche i bambini rispettino queste regole. Molte delle persone che sono in ospedale, ancora lottando in gravi condizioni, probabilmente hanno contratto il virus proprio per leggerezza e superficialità. Non abbassiamo la guardia. Stasera voglio salutarvi ricordandovi che il Comune ha una sezione La Cultura non si ferma, con iniziative digitali di lettura, teatro, arte, mostre, eventi, corsi, area bambini e ragazzi, e adesso anche le dediche d'arte. Il mercato esprime anche qui la passione e la voglia di cultura e vi invito a visitare il sito. E un grande grazie a Matteo Brambilla per aver dedicato a tutti noi Do, Re, Mi, suonando contemporaneamente quattro strumenti e dandomi l'occasione di ringraziare con affetto tutto il nostro civico corpo musicale. Se teniamo duro, torneremo presto a suonare e a riempire le nostre piazze. Grazie.